ben ritrovati quadro generale sul weekend con la carta del tempo prevista tra sabato e domenica europa centrale e orientale poi l'italia sotto scacco da una larga bassa pressione alimentata da aria relativamente fredda le conseguenze per il nostro abruzzo iniziamo da sabato 26 primo mattino con molta nuvolosità e delle piogge sulla provincia dell'aquila e nevicate oltre 1700 1800 metri poi relativo miglioramento e variabilità generale in tutta la regione tranne nel pomeriggio quando si accenderà dell'instabilità che potrebbe procurare qualche precipitazione qua e là per il territorio regionale o ovviamente fiocco di neve in quota ventilazione da ovest sui settori occidentali moderata da nord sulla costa con intensificazione della sua intensità mare mosso o molto mosso temperature in generale diminuzione ed eccoci a domenica 27 giornata perturbata in tutto l'abruzzo con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni inizialmente sui settori occidentali ma in estensione anche su quelli orientali quota neve a partire dai 2200 metri ventilazione in rotazione da sud sostenuta mare molto mosso e quadro termico in leggero aumento ma sempre in un contesto autunnale è tutto passate un buon weekend a presto